torni giù sdraiala e trascinala dalla ruota davanti sdraiala in terra e trascinala la ruota davanti fai la rumbulare andiamo ad aiutarlo dai aspetta aspetta ma perchè non l'hai riparato ancora? perchè dovrei fermare la moto vabbè si sta a cambiare da dove gliela tiriamo? allora accattiamo la ruota davanti allora aspetta vai vai 1 2 3 vai 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 gianfranco è rimasto ma non si è fatto male no mo